alla conclusione con i più belli, i più attesi della serata nulla a mancare a tutti gli altri, ci mancherebbe con i nostri fantastici bimbi e teenager che sfileranno con la nuova collezione autunnale-invernale X-Auto, Franchi Malone, Lodipetto, Indifer e Miss Luli disponibili dai 3 ai 16 anni Veste truccate, anni sessanta, girano in centro sfiorando i novanta Rosse di fuoco, comincia la danza, di frecce con dietro attaccata a una targa dammi una speciale estate che avanza, dammi una Vespa e ti porto in vacanza Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi se hai una Vespa special che ti toglie i problemi Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi se hai una Vespa special che ti toglie i problemi la scuola non va, ma una Vespa una donna non ho ho una Vespa domenica e già e una Vespa mi porterà Fuori città 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 Esco di fretta dalla mia stanza, a marce in granate dalla prima alla quarta Devo fare in fretta, devo andare a una festa, fammi fare un giro prima sulla mia Vespa Dammi una special, l'estate che avanza, dammi una Vespa e ti porto in vacanza Ma a volte è bello andare in giro con le ali sotto i piedi Sei una Vespa special che ti toglie i problemi Ma a volte è bello andare in giro per i colli forniti Sei una Vespa special che ti toglie i problemi La scuola non va, ma una Vespa una donna non ho Ho una Vespa domenica e già, e una Vespa mi porterà Lo darà Forniti da Forniti da Forniti da Forniti da Forniti da Forniti da Forniti da